Ecco qua, stiamo avendo un momento di relax, ci sono le varie persone che stanno mangiando la pizzetta, eccetera, eccetera. Ringraziamo il Signore per questo messaggio che è stato fatto, ci sono state varie domande che sono state fatte e ringraziamo il Signore per l'interesse che le persone hanno verso l'Apocalisse, la rivelazione del Signore Gesù Cristo per gli ultimi tempi, quello che succederà in questo mondo. Sono state fatte varie domande, grazie a Dio che le risposte sono sempre basate sulla scrittura con l'aiuto dello Spirito Santo, del Consolatore, perché è la cosa principale, è lo Spirito Santo che ci guida a comprendere le varie cose. Quindi ringraziamo il Signore, le persone si stanno dando da fare a mangiare, a fare le varie cose. Qui ci sono delle cose anche gratis che vengono date, oltre a quelle che sono lì sul tavolo, anche qui ci sono delle cose gratis, anche qua cose gratis, pieno, pieno, pieno. Dobbiamo ancora aprirle e dobbiamo regalare alle persone. E grazie a Dio. Grazie a Dio.